La differenza fra me e chi è oggi alla regione Campania è anche questa, c'è chi propone l'elemosina e chi come me propone il lavoro per una vita intera, questa è la differenza fra me, o l'elemosina o il lavoro. C'è un'altra differenza fra il nostro candidato e lui, io sono orgoglioso di una cosa, nella mia vita politica ed amministrativa non mi sono lasciato dietro di me neanche un cliente, ma solo donne e uomini liberi. Per me le istituzioni non servono a comprarsi la coscienza della gente, a comprarsi la disponibilità di chi vive in una condizione di disperazione personale e sociale. Le istituzioni servono a migliorare la vita delle famiglie, a dare una speranza, a dare serenità, a dare un aiuto a chi vuole investire. Le istituzioni non gestiscono il patrimonio di famiglia di qualcuno, ma risorse pubbliche.